Le sue condizioni erano state giudicate fin da subito disperate e all'alba si è spento anche il terzo occupante dell'Audi A3 che venerdì sera poco prima di mezzanotte ha invaso la corsia opposta finendo nel fossato laterale della provinciale che da Oderzo conduce a Ormelle schiantandosi contro un ponticello di cemento. Davindera Kumar, anche lui indiano come gli amici con i quali aveva trascorso la serata e stava tornando a casa, aveva solamente 26 anni, uno di meno del conducente dell'Audi Gurteji Singh di San Polo, 35 anni invece l'altra vittima Gurdeip Singh. Il bilancio del sinistro diventa così pesantissimo, tre morti, tre giovani vite spezzate, forse a causa dell'alta velocità. La conta dei morti sulla strada nella marca trevigiana da inizio anno sale così a 57. I parenti dei quattro giovani amici coinvolti nel sinistro si sono recati di persona in via Roma. Il capuccio della felpa alzato, gli occhi rossi, fissi sul fossato dove la macchina ha terminato la sua corsa, è palpabile il dolore nel viso del padre di Gurteji Singh, operaio della lanta di Piavon, al volante l'altra sera dell'Audi. Alla mamma aveva detto, nell'ultima telefonata, che le avrebbe portato il gelato. Ancora sedato e intubato, il quarto ragazzo coinvolto nel tragico incidente, un 23enne, ricoverato in terapia intensiva centrale al caffoncello, ha subito un grave politrauma sul posto, lo zio. L'unica persona là vivo, ancora grave, non so, appena tornato all'ospedale, loro ho detto ancora, non è svegliato, allora ancora grave, però forse salva loro, non so. E' l'unico che si salva? L'unico, l'unico, l'unico salva, l'unico. Grazie a tutti.